Negli anni 80-90 Quando i turisti, diciamo, stranieri, ma pur sempre europei Venivano qua e passavano le ferie estive Soprattutto a un camping, che penso sia l'unico appunto a San Baronto Che si chiama Barco Bar, Barco Reale Notate la vista? Oppuscata naturalmente oggi per colpa della troppa umidità E questo è un pezzo di strada Bene, questo video lo voglio dedicare a una persona E dirò soltanto il nome, si chiama Diego Che non so come è riuscito in qualche modo a farmi riabilitare l'account YouTube primario, principale Quello in cui avevo salvato, diciamo, tutte le cose, i miei ricordi Alcuni dei miei ricordi che mi erano rimasti, come posso dire, in testa Quindi questo video lo dedico a Diego Lo posterò subito, spero che lo veda Grazie Diego